Una nuova generazione è in grado di vivere nel vecchio stile della politica, in differenti ruoli con differenti caratteristiche, una richiesta di rimpasto, questo è condiviso da tutti nella maggioranza, è naturale, che c'è una intesa, fare le cose che piacciono a me, ma lavoriamo bene insieme, non c'è un braccio di ferro, un gioco d'azzardo, giochiamo a carte scoperte, il nuovo segretario del PD Matteo Renzi, che va davanti, è stata una delle ghiatture, del presidente del consiglio dei ministri, è una delle grandissime fortune di Berlusconi, un aiuto, questo gli è stato concesso in modo chiaro, a Berlusconi e a Forza Italia, io difendo il PD, e non può terminare secondo me con una deriva populista, nichilista, Gli italiani sanno perfettamente che siamo a un bivio straordinario, tra il nuovo segretario del PD Matteo Renzi e il sottoscritto, massimo rispetto per chi decide di dimettersi, è totalmente fuori luogo, non c'è un'imposizione mia, sarebbe un errore per il paese, un vincitore ci sarà sempre, sarebbe un errore per una persona, vai! Grazie a tutti!